Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare come video di anteprima, quindi non è assolutamente un cosa ne penso, a parte l'avete visto anche dal titolo, è soltanto un video di anteprima, vi volevo far vedere che cosa ci è arrivata a casa della Warlord Games e dell'inizio di questa nostra collaborazione che io ringrazio di cuore perché mi riempie veramente di una gioia disumana, è la prima volta che riesco a collaborare con la Warlord Games, questa roba mi è arrivata dall'Inghilterra e ci ha messo un po' causa Brexit e Covid, ci ha messo tipo qualche settimana per arrivarmi, due o tre settimane, e sono contento da morire perché da amante dei wargame, ma soprattutto da amante dei giochi in scala 28-30 mm e della seconda guerra mondiale, era una vita che lo volevo provare e ragazzi guardate quanta roba mi è arrivata qui davanti e mi ci hanno messo in regalo anche il generale Patton delle Forze Alleate. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Bolt Action, gioco della Warlord Games, portato in Italia ovviamente e localizzato e tutto quanto perché c'è anche il commerciale della Warlord Games direttamente in Italia, è un gioco che io ho scoperto, lo ammetto magari ignoranza mia una cosa o un'altra, ho scoperto a Lucca qualche anno fa, si parla almeno di un 6-7 anni fa, una cosa del genere, forse 5-6, insomma un po' di anni fa. Ero lì che giravo fra i tavoli da gioco a Lucca Comics & Games, a un certo punto vedo questo tavolo da gioco immenso, pieno zeppo di miniature iper dettagliate e non sto parlando senza togliere niente perché adoro, io amo la Italeri, però Italeri magari a volte fa cose un po' più piccoline, più in scala, più che altro per fare diorama ecco, cose del genere, no? Ci può anche giocare tranquillamente. Però ho visto ste miniature in scala Warhammer, grosse, cioè non un mini piccino così, ma soldatini belli grossi, in scala 28-30 mm, sti carri armati grossi così, il Tiger dei tedeschi, che sono un pazzito, infatti mi sono fermato e ci sono rimasto a chiacchierare una mezz'oretta e mi sono fatto spiegare tutto. Sto bel campo, che era poi la battaglia di Berlino, c'era anche un altro tavolo con la battaglia di Stalingrado, che sono due set che potete trovare, ma ora ve ne parlo un po', io ho visto queste miniature e mi sono messo paura perché abituato, ripeto, a vedere giochi in scala millimetrica, proprio piccolina piccolina, vedere una specie di Warhammer 40.000, molto facile come regolamento, ambientato nella seconda guerra mondiale, sono andato per terra e sono svenuto perché sono un fanatico, veramente sono un drogato e mi drogo di seconda guerra mondiale, mi galba da morì come panorama bellico e storico. E quindi quando ho visto questa roba qui ho detto mi interessa un pochino e vediamo un po' cosa ne può venire fuori. E sono riuscito a collaborare appunto con la Warlord Games per presentarvi questi prodotti che vedete qui davanti, non è un video Cosa ne Penso, non vi faccio nemmeno vedere l'unboxing, è una piccola anteprima, poi a breve, fra qualche giorno dopo che vedete questo video, uscirà proprio il Cosa ne Penso, vi spiego regolamente tutto. Allora, le cose che mi sono subito capitate all'occhio sono, ok, poi vi descrivo cosa c'ho davanti, Bolt Action è un gioco veloce, è un gioco veloce, 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 immediato, con poche regole e gli stessi loro, che poi sono anche la Osprey Games insieme alla Warlords, nel regolamento c'è scritto non ci interessa che sia un gioco accuratamente storico, non ce ne frega niente perché la vera guerra è, non vi dico questa è un'aggiunta mia, la vera guerra è noiosa, è come quando a volte si va a fare un gioco simulativo che la gente dice, ma sto fucile non funzionava così, ma te ti vuoi divertire? O vuoi un gioco accuratamente, magari spallante, capito? Quindi il gioco deve essere immediato e divertente, ovvio, nemmeno puoi fare il Tiger che vola, o, non lo so, un Tiger che si trova faccia a faccia con uno Sherman, o un Lee, gli sparano addosso e lo forano, perché a quel punto, o qualcuno magari con un Mitra che spara addosso a un Tiger e lo buca e ammazza l'equipaggio, no, ci vogliono delle regole giuste, è una ricostruzione storica, però è un gioco, un gioco deve divertire, non ce ne frega niente della simulazione perfetta, e questo gioco cerca di farlo talmente veloce che il regolamento stesso ci viene incontro, ad esempio tutti quanti i fucili d'assalto sono uguali, cioè non ce n'è differenti 3.000, tipo Ramber 40.000, una scheda così di fucili d'assalto, tutti diversi, 10 dati d'attacco, forza 4, forza 5, no, non c'è assolutamente qui tutti i fucili d'assalto che facciate l'asse, o che facciate gli alleati, sono gli stessi, mitraliatrici da postazione, sono gli stessi, carri armati, no, sui mezzi pesanti e carri armati quelli no, ce l'ho fatto particolare attenzione, ma un altro ramo appunto del gioco, non permette un carro medio, che sia uguale per gli americani o magari per i tedeschi, magari un Panzer III uguale, buono Sherman, oppure carri pesanti, mi verrebbe da pensare a un Patton, ad esempio, e un Tiger, lì le differenze sono sostanziali a livelli di armature e tutto quanto, però comunque il gioco è stato semplificato, anche proprio a livello di regole, ed è bellino il fatto del pin, che sono dei segnalini rossi che quando qualcuno ti spara sull'unità, anche se non te la ferisce, però sei sotto il fuoco nemico e quindi sei più lento a muoverti, ma soprattutto devi vedere, devi fare un check sul morale, disciplina, per vedere se la truppa risponde agli ordini, perché magari sotto il fuoco nemico di una mitralatrice d'appostazione, magari stanno fermi, accucciati, o magari sotto il fuoco di un mortaio. E quello che vedete qui davanti è Band of Brothers, un set di base, che dovrebbe venire, non vorrei dire una cavolata, tanto poi i prezzi, vi lascio il link sotto, dovrebbe venire tipo 90 euro in inglese e 102, 103, qualcosa del genere, nemmeno tanto di più tradotto in italiano. Questo qui, Band of Brothers, è un set di partenza dove c'è il regolamento di gioco, addirittura degli edifici, quindi degli elementi scenici, e c'è un gruppo di 24 airborne, quindi tipo la compagnia Easy, la compagnia Ebole, l'avete visto, che si paracadutarono dietro le linee nemiche la notte prima, o poco prima, dello sbarco in Normandia, quindi l'inizio operazione Overlord. E poi ci sono 12 tedeschi, qua davanti, e un mezzo blindato, e ci sono i dadi sia dalla parte degli alleati che dei tedeschi, perché in questo gioco si va a prendere un sacchettino, ci si buttano tutti i dadi in ordine, si scecchera, e poi una alla volta si tira fuori il dado, si dà alla truppa, e si agisce. Ed è una figata assurda, perché se a me mi va di fortuna e a te ti va di sfiga, e io tiro fuori tutti i dadi mia, quando vado a pescare per vedere cosa esce, tutte le mie truppe si muovano prima delle tue, perché quando tiri fuori il dado e dà l'ordine, la truppa si muove, dado, la truppa si muove, le può anche tenere in riserva. Quindi è anche bello, perché non c'è alla Warhammer, te muovi tutte le tue, poi muovo le mie, te tutte le tue, poi tutte le mie, devo stare, aspettare fino a che non mi massacri. Qui se ti va male, invece, muovo prima tutte io le mie, oppure magari se ne muove un po' e un po'. È anche la casualità, appunto, del pescare da un sacchettino. Poi qui accanto mi hanno mandato anche un set base degli Airborne, che sono altre 40 miniature, oppure sempre paracadutisti americani in Europa e da questa parte di qua i granatieri tedeschi, che è un'altra scatola e addirittura qua dentro ci dovrebbero essere due mezzi blindati. Quindi c'è veramente tanta, tanta, tanta roba e in più già ci stiamo attrezzando e qui davanti, come vedete, ci siamo già attrezzati con la stampante 3D a fare degli scenari. Abbiamo fatto, ovviamente in scala Volt Action, 28 mm, abbiamo fatto un edificio diroccato e il primo piano, tipo di un bistro, un ristorante distrutto, una cosa del genere e questo ci sarà un secondo piano e poi sopra il tetto. Comunque questi qui sono edifici in scala che se vi interessano giocate a Volt Action ma anche per altri giochi comunque in questa scala qui se ci volete contattare vi lascio il secondo link in descrizione per il negozio di mia moglie su Facebook se ci volete contattare. Comunque questa è un po' di roba che abbiamo fatto in più e che poi andremo a dipingere per farci appunto il video e tutto quanto. Ragazzi, questa era unicamente, ah tra l'altro l'ho fatto vedere il generale Patton ma l'hanno mandata qui davanti, bellissimo, e questa era una veloce presentazione di Volt Action che è un gioco veloce per schermaglie niente vi vieta di fare battaglie frese e eccite ma secondo me viene meglio la schermaglia fuori con un gioco del genere con delle miniature fatte da paura un gioco veloce immediato e con un regolamento veramente alla portata di tutti. Io ho fatto questo video di introduzione per farvelo un po' vedere ci farò video più approfonditi e recensioni cosa ne penso e ringrazio ovviamente la Warlord Games di cuore grazie immensamente per avermi dato questa possibilità. Ciao ragazzi alla prossima!